Uno, due, tre! Inaugurato a Benevento il nuovo mercato di Campania Mica, questa mattina è il taglio del nastro davanti alla chiesa di San Gennaro dove ogni settimana saranno presenti i produttori della Coldiretti per un appuntamento all'insegna della sagionalità e dei prodotti a chilometro zero pronti a conquistare i consumatori sanniti. Sono cose che vengono dal nostro territorio per cui sono molto convenibili, molto buoni. Cosa ti stanno chiedendo le persone? E adesso prodotti freschi, tipo mozzarella, fior di latte, ricotte, caciocavallo. Panna rano, è lì che produciamo tutto, c'è il miele che è lì, raccogliamo anche il tartuovo. Coltiviamo grene antichi, senatore Cappelli, la risciola, Romanelli e con le nostre farine ci facciamo pane. Dal pane fatto in casa agli ortaggi, dai formaggi al miele, ma c'è spazio anche per la solidarietà. Quello che c'è dietro alla lavorazione del carciofo è una onlus, quindi noi lavoriamo nel sociale. La campagna dunque arriva in città con il quinto mercatino Campagna Amica del Sagno. È cambiato molto il rapporto tra campagna e città. Se dovessi sovrapporre la fotografia di vent'anni fa a quella di oggi, è una fotografia veramente diametralmente opposta. Oggi noi puntiamo su qualità, su eccellenze, su specificità territoriali che sono invidate in tutto il mondo. E soprattutto le vendiamo direttamente nelle città e ai consumatori. Si punta sulle eccellenze del territorio sannita per la ripartenza. La multifunzionalità oggi si sta mostrando una grande occasione, non solo per le imprese, quindi in questo momento difficile per la ripartenza, ma soprattutto anche per le comunità. Grazie. 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 Grazie.